Musica Concluso lo spoglio, partita la nuova campagna elettorale, a Omenia è l'ora dell'analisi del voto. Incastata alla vittoria delle urne Sergio Bossi, riconfermato sindaco a Borgo Manero e al lavoro per formare la squadra di governo. Una petizione per salvare la passerella del maglietto a Villa Dossola, il comune per ora è in corso uno studio. L'ostello della gioventù di Verbagna gestirà le spiagge del Buon Rimedio e Tre Ponti, nel weekend parte la stagione balneare. La sede della Cisle di Verbagna intitolata Diego Caretti ha il maggiore un convegno per ricordare lo storico sindacalista. Bocce a pochi giorni dalla fine del campionato, il possaccio va al quarto posto ma l'insidia è tutta sarda. Una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. Il voto del 12 di giugno ha ridefinito la geografia politica di Omenia, cambiano i rapporti di forza tra i partiti e all'interno della coalizione. Non è buona l'affermazione della lista civica guidata da Daniele Berio che nonostante abbia chiuso la porta ad apparentamenti, continua a essere molto corteggiata da chi è rimasto in ellizza. E allora andiamo a vedere la nuova mappa elettorale omenese. Il giorno dopo l'esito del primo turno delle amministrative che ha portato al ballottaggio Paolo Marchioni ed Alberto Soressi, c'è un dato incontrovertibile che rappresenta una sconfitta per tutti. Agli omenesi interessa sempre meno della propria città. La percentuale di votanti, il 44,78%, è per certi versi imbarazzante perché segna un calo di quasi 10 punti rispetto al 2017. Subito dopo l'esito, Omenia si cambia, aveva parlato di sconfitta, manifestando una delusione enorme, ma come si dice a Napoli, passata la nottata, il risveglio è stato più dolce, perché la lista civica è il primo partito in città con un significativo 23,11% e con una crescita percentuale di più di 7 punti e di 180 voti in confronto a 5 anni fa. A trascinare il gruppo Mauro Impolesi e Lucia Camera che sono stati più votati. Clamoroso il successo del primo che ha fatto segnale il record storico di preferenza ad Omenia con 351 voti, 164 per la Camera. Al netto di quello che farà Omenia si cambia, è chiaro che l'elettorato di Birgio sarà determinante nella sfida a Marchioni Soressi. Ci sono 1.280 voti in ballo. Marchioni è davanti a tutti in termini di percentuali e voti, ma se si fa un raffronto con il 2017 si scopre che la sua coalizione ha perso 491 voti, passando da 2.665 a 2.174. All'interno del centro-destra arretra la Lega, passata dal 16,12% alla 14,09. Tiene botta Forza Italia con un 9,12% che va considerato assolutamente positivo. Avanza Fratelli d'Italia che sale dal 7,87% alla 10,89% nonostante la scissione degli ultimi mesi. Non sfonda la civica, Uniti Omenia cresce sotto il 4%, quasi nullo l'apporto del popolo e della famiglia. Il centro-sinistra dal canto suo vede la flessione netta del PD che conferma la sua parabola discendente in città. I democratici sono al 18,54% nel 2017, erano appena sotto al 20% ed hanno perso per strada ben 300 voti. Alla causa di Soressi, un ottimo contributo l'ha portato Sinistra Comune che ha totalizzato un allusinghiero 7,97%, mentre non ha raggiunto l'auspicato 10%, la civica Omenia riparte che si è fermata al 7,57%. Può sorridere Ubbiali che ha superato il 4% sia nella sua candidatura che con la sua lista. Niente consigliere ma percentuali più che raddoppiate in termini di preferenze detto dell'exploit del duo Empolesi-Camera. Nel centro-destra i più votati sono stati Stefano Strade e Mattia Corbetta con 111 preferenze a testa. Ottimo risultato per Maria Pianta con 57 voti nella lista di Fratelli d'Italia, mentre in Forza Italia il più votato è stato Giulio Lapidari con 64 voti. Dall'altra parte esulta Dario Galizzi con i suoi 101 voti nel PD, quindi Gianni De Santi a 96, gli stessi di Mimamo Scatiello di Sinistra Comune. Nella civica di Marchioni, uniti Omenia cresce, il più votato è stato Giacomo Germagnoli con 38 voti, in quella di Soressi invece Alessandria Gembi a 29. Spostiamoci a Borgo Manero passata, la sbornia elettorale per l'ottima affermazione. Sergio Bossi è stato infatti eletto al primo turno, il sindaco ora al lavoro per formare la sua squadra di governo. Sergio Bossi rieletto a Borgo Manero alla carica di primo cittadino, ma rieletto a dir poco perché ha ottenuto addirittura il 74% con altre due liste avversarie. Come si può commentare questo successo? Questo è il frutto di 5 anni di lavoro, dove la gente di Borgo Manero ha apprezzato ciò che abbiamo fatto. Io non posso far altro che ringraziare veramente di cuore tutte le persone che hanno votato per me, ma che in questi mesi mi hanno fatto sentire la loro vicinanza, perché devo essere sincero, in questi mesi ho sentito veramente le persone molto vicine. E quindi per un sindaco questo è motivo di spinta e quindi di andare avanti in un periodo complicato come quello che abbiamo attraversato. Si esce da due anni di pandemia, quali sono le opere a cui saltate veramente addosso? Adesso dobbiamo realizzare, dobbiamo finire il sottopasso e partire con la realizzazione del ponte sul torrente Agogna, perché in ottica di ampliamento dell'ospedale abbiamo bisogno di liberare, di deconcessionare la zona dell'ospedale, quindi è fondamentale ed è importante veramente liberare tutta la zona dal traffico. Alla luce di questo 74%, ha vinto il sindaco o ha vinto il sindaco e la squadra? Io dico sempre la squadra, il nostro slogan era per la gente e in mezzo alla gente, ma sul volantino che ho fatto circolare nelle famiglie c'era scritto squadra vincente e non si cambia e spero di riuscire a confermare tutta la squadra. Adesso per quanto riguarda il futuro, qualche suo sogno, qualche progetto, non di quelli immediati, ma che le piacerebbe realizzare in questo quinquennio? Il sogno è la richiesta delle tantissime associazioni sportive, che è quello del palazzetto dello sport. Per me a Borgomanero manca anche una bellissima piscina con più asche e perché no magari un parco acquatico, è quello che puntiamo a realizzare, non sarà semplice ma sarà una sfida e le sfide a me piacciono. La nuova amministrazione guidata da Davide Inzaghi a Brovello Carpugnino, già in agenda nei prossimi giorni un incontro per affrontare il problema dell'approvvigionamento idrico. Davide Inzaghi è il nuovo sindaco di Brovello Carpugnino, eletto con una larga maggioranza. Sì, siamo molto contenti di come sono andate le elezioni, abbiamo avuto un riscontro veramente positivo. Questo ci ha dato ancora più energia per metterci subito al lavoro e iniziare a risolvere quelle che sono un po' le problematiche del nostro comune. Quali sono? Allora, in primis l'acqua. Qualche settimana fa abbiamo iniziato ad avere problemi idrici, alcune frazioni sono rimaste addirittura tre giorni senza acqua e questa cosa in un paese, per le volte il termine civilizzato, non può avvenire. Quindi abbiamo subito contattato Acquenovara che ci ha già spiegato quali sono stati i problemi. Abbiamo già un appuntamento con i loro responsabili lunedì prossimo per trovare una soluzione definitiva a questa situazione. E invece se c'è un piccolo libro dei sogni, che cosa le piacerebbe realizzare in questi cinque anni qui a Brovello? Ma sicuramente riportare il turismo. Vogliamo che questo comune torni a vivere come era tanti anni fa, vedere persone, perché questo aiuta tutti. Più persone ci sono, più villeggianti, più servizi si riescono a fare e di conseguenza anche più persone poi decidono di venire a vivere qua. Che cosa si può fare allora per attirare i turisti? Sicuramente riprendere gli eventi, le manifestazioni, le sagre, tutte quelle cose che rendono belli i paesi come il nostro. Aiutarci poi dal punto di vista del green, i sentieri, i mountain bike, a piedi. Ha già pensato alla sua squadra? Sì, assolutamente. Noi sono quasi un anno che ci lavoriamo. Sarò io e insieme a Graziano Possi il vice sindaco e Daniela Bertini l'assessore. Ognuno è esperto nel suo campo. Proprio oggi parlavamo della problematica del verde e delle attrezzature. Abbiamo con noi il Carlo Cornacchiari che ha 40 anni che si occupa del verde. Quindi ci ha già indirizzato subito su quello che sono le necessità. Campi dove magari io che sono programmatore o il mio vice sindaco che è tecnico non riusciamo a seguire questi aspetti qua. E allora visto che lei è un programmatore dal punto di vista invece informatico e tecnologico, che cosa si può fare per sviluppare il comune? Allora sicuramente introdurremo prima possibile tutte quelle disposizioni che permettono di utilizzare il computer. Non dover venire qua magari per timbrare, per fare un foglio, per fare una firma, ma utilizzare il più possibile le PEC, la SPID, tutta questa tecnologia a disposizione sia all'esterno, quindi per i cittadini, sia all'interno del nostro comune. A Villa Dossola un gruppo di cittadini ha avviato una petizione per salvare l'attuale passerella del Maglietto, un ponte sullo Vesca caro ai residenti della zona, ma dal comune si sottolinea la struttura necessita di importanti lavori per la messa in sicurezza. Comunque nulla è stato ancora deciso. Una raccolta firme per bloccare il progetto di una nuova passerella pedonale sullo Vesca è quanto hanno promosso un gruppo di cittadini a Villa Dossola. La petizione è partita da pochi giorni. Le firme si raccolgono in alcuni esercizi pubblici della città. La petizione chiede all'amministrazione di Bruno Toscani di valutare la possibilità di procedere ai lavori di riparazione della storica passerella del Maglietto e di abbandonare la proposta di un nuovo ponte. Una questione complessa, quella della passerella, oggetto solo un anno fa di importanti lavori di messa in sicurezza. Oggi è aperta il transito pedonale, fatte salve alcune prescrizioni in caso di forte vento per esempio, e poi è contingentato a 5 il numero delle persone in transito in simultanea. L'amministrazione comunale di Villa Dossola, preso della raccolta firme, ha precisato che nessuna decisione è stata ancora adottata e è stato dato in carico ad un professionista per la stesura di un progetto. Ogni decisione sarà adottata per garantire la sicurezza di tutti. Il commento del sindaco Bruno Toscani sarà cura dell'amministrazione comunale a progetto ultimato. Illustrarlo alla città, ha concluso l'assessore ai lavori pubblici Massimo Gervasoni. Siamo alla cronaca, ancora un'evasione dai domiciliari. Era ai domiciliari ma girava in macchina a Verbagna. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagna di Verbagna hanno tratto in arresto un 38enne residente in città perché ha ritenuto responsabile di evasione. L'uomo già noto è stato sorpreso a bordo della sua auto per le vie del centro, mentre avrebbe dovuto trovarsi a casa sua. È finito quindi in manette. Questa mattina l'arresto è stato convalidato dal giudice. In Ossola invece sono due le denunce per guida in stato di ebrezza da parte dei carabinieri di Domodossola, entrambi in seguito a incidenti stradali che fortunatamente non hanno causato feriti. Il primo avvenuto nei prassi della rotonda in prossimità del ponte di ferro di via Mizzoccola lungo la strada provinciale per Trontano, nel quale è intervenuto l'equipaggio del radiomobile. Una coppia di giovani al termine di una nottata alcolica, rientrando a casa, complice alla forte velocità, non ha rispettato la rotonda, attraversandola di netto per finire contro il marciapiede. La macchina si è quasi distrutta, ma i due sono illesi. Il conducente era positivo all'alcol test, con un tasso di quasi tre volte il consentito. Oltre al ritiro della patente e al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Il secondo episodio è avvenuto a Villa Dossola, dove la stazione Carabinieri locale, alle prime luci dell'alba, si è ritrovata un neopatentato che è finito con la sua auto contro due vetture parcheggiate in via Bianchi. Anche per lui nessuna lesione riportata, ma in questo caso il tasso alcolico era di oltre due grammi per litro, mentre per i neopatentati il limite consentito è pari a zero. Per lui denuncia, oltre a dover risarcire le auto danneggiate, è a vedersi sequistrata la patente che non rivedrà per parecchio tempo. L'ostello della gioventù di Verbagna è il nuovo gestore delle spiagge di Suna, al Buon Rimedio e Tre Ponti, la stagione balneare parte il prossimo fine settimana con una festa inaugurale domenica 19 giugno. Questa mattina a Villa Giulia la presentazione dell'offerta turistica. Domenica 19 giugno finalmente aprono a pieno regime le due nuove spiagge di Verbagna. Tanti turisti e cittadini le stanno frequentando perché le spiagge sono in ordine, nella disponibilità. Il 19 parte una gestione con la concessione di Verbagna che durerà sei anni e che prevederà anche dei servizi aggiuntivi per i tanti amanti delle spiagge del lago che potranno così avere la possibilità di un paradiso che c'è a Verbagna che è stato sistemato e che si offre anche come un elemento di grande aumento delle potenzialità turistiche della città. Ci sarà una festa con l'inaugurazione e immaginiamo che famiglie, ma soprattutto giovani e giovanissimi siano interessati poi a frequentare le due spiagge che si prestano a vivere un'estate scoppiettante di grande ripresa. A Zurra Beach e Sun Beach quali saranno i servizi offerti? Allora, al Sun Beach che è la spiaggia del Buon Rimedio ci sarà un noleggio di lettini e ombrelloni con un servizio di salvataggio garantito dal mattino alle 9.30 alle 12.30, un'ora di pausa pranzo e poi 13.30 a 18.00. All'Azurra Beach invece che è la spiaggia dei Tre Ponti ci sarà un servizio di bar sempre dalle 9.30 alle 21.00, invece il servizio di salvataggio allo stesso del Sun Beach in più ci sarà un servizio di animazione il sabato e la domenica per i bimbi dalle 10.00 e mezzogiorno e dalle 14.00 alle 18.00 con la presenza di un gonfiabile sulla piattaforma che andrà direttamente in acqua per i piccolini. Ricordiamo anche l'accoglienza per i cani e oltretutto un servizio di noleggio SAP. Sì, allora i cani ovviamente sono i benvenuti, vi verrà consegnato un kit all'arrivo con il cane che prevede un lettino, parasole e un sacchettino per gli escrementi e dei biscotti e una sciatola portatile per la giornata. Invece per quanto riguarda il noleggio dei SAP abbiamo preso degli accordi con un'associazione di Verbagna che si chiama, anche loro sono nati non da tantissimo, si chiama Acqua Zero e saranno presenti per far provare e noleggiare le loro attrezzature. In collaborazione con VCO Trasporti ci sarà una linea dedicata dei bus che accompagnerà le persone alle spiagge. Lutto nel mondo del giornalismo locale, scomparso all'età di 82 anni, Sandro Bottelli, professore di matematica al liceo, con passione del giornalismo, il suo cuore si è fermato in mattinata all'Arcadia di Belgirate, residenza per anziani che l'ospitava. Ha iniziato a collaborare con un giornale di Pavia, poi è passato al settimanale l'Eco del Verbano, quindi alla Gazzetta del Popolo, infine alla Stampa dove ha collaborato per oltre 20 anni, per molti anni ha collaborato anche con la nostra testata giornalistica. Ha fondato il mensile Il San Carlone che è diretto per 40 anni, appassionato di podismo, non mancava mai alle classiche come l'Asgam e l'Advigez, la Maratona della Valentrasca, il Giro del Lago d'Orta e l'Abbaceno d'Evero Crampiolo. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Dagnente a Darona, giovedì 16 giugno alle ore 16. Un convegno al Teatro Maggiore di Verbagna per ricordare la figura e la storia di Diego Caretti, sindacalista e appassionato amministratore locale. La mattinata si è chiusa con la cerimonia di intitolazione della sede Cisle in suo ricordo. Cisle Piemonte Orientale ricorda l'importante figura di Diego Caretti a due anni dalla sua scomparsa, dedicandogli la sede del sindacato. Lui è stato capace di anticipare il segno dei tempi e ritroviamo nel suo vissuto quello che oggi sono le parole d'ordine che anche noi in maniera semplice ed umile cerchiamo di mettere in campo, cioè l'attenzione alle persone, l'attenzione al lavoro, l'attenzione alla dignità e il baricentrare quest'azione nel territorio. Per la Cisle del Piemonte Orientale il territorio è il fulcro della propria azione. E da Diego ereditiamo questo. Un ricordo, un'emozione di suo padre? Beh, è un'emozione quella di oggi, il ricordo. Il principale è questo di un uomo che ha avuto grandissime esperienze, opportunità, rischi, ha fatto politica, ha fatto sindacato, ha avuto anche posizioni tutto sommato di rilievo, ma non si è mai atteggiato all'io o fatto. Anzi, ha sempre vissuto la sua storia intelligentemente con un senso di autorionia che era quello che voleva permettere di trasportare la sua esperienza sul presente per dare il coraggio che oggi sta affrontando le complessità del mondo che stiamo vivendo. Un ricordo, un aneddoto di magari qualche lotta sindacale fatta con Caretti? Vedere Caretti in manifestazioni tipo blocchi stradali, blocchi ferroviari, lo vedevi zampettare sui binari come praticamente un piccolo folletto e naturalmente, e qui c'è un testimone, non potevi riprenderlo in faccia perché altrimenti scattavano immediatamente le denunce per blocco stradale, per blocco ferroviario e rischiavi la galera. La lotta alla Montefibre, dove quotidianamente eravamo in piazza, a Roma, in stazione per rivendicare la riapertura di quell'azienda, cosa che è riuscita in parte ma che ha visto Diego assieme a noi come uno dei massimi protagonisti della veratenza della lotta a Montefibre. Siamo arrivati allo sport in apertura alle bocce con il punto della situazione della classifica a pochi giorni dalla fine del campionato. Dove eravamo rimasti? Al possaccio del presidente Mazzolini che conviveva al quarto posto insieme al pericoloso team quasi tutto composto da giovani, quello della Galice di Cagliari. Sono nel frattempo passate due giornate, la diciannovesima e la ventesima e la situazione è almeno apparentemente migliorata. Infatti, se il 4 giugno possaccio contro Fossombrone, gara di cui vediamo alcune immagini relative alle sfide di Coppia ha vinto 7 a 1, la stessa cosa ha fatto la Galice contro la Civitanovese. Ma sette giorni dopo, mentre Possaccio batteva 6 a 2 la stessa Civitanovese, soltanto Andreani nell'individuale ha perso i due match peraltro con molta sfortuna, i sardi del DS Renato Farris portavano a casa un solo punto. Però, nella delicata trasferta di Boville, dove nell'individuale Roberto Moi, per poco, non vinceva entrambi gli scontri davanti a Giuliano Di Nicola. E adesso, a due giornate dal termine della regular season, dopo il ribaltone in vetta, Inno Smosciano precede sempre i due punti la caccialanza e di ben 7 Boville, mentre Possaccio è quarto a quota 35, inseguito proprio dalla Galigel, che di punti ne ha 33. Inutile sottolineare che la partita dell'anno diventa, per il DS Sergio Tosi e per i suoi giocatori, e lo si sapeva ormai da tempo, quella di sabato prossimo, appunto in trasferta sui campi difficilissimi della Galigel di Cagliari. Vincere è un imperativo, ma anche un pareggio eventualmente non sarebbe da disprezzare per tenere indietro i due punti i rivali. Poi, sette giorni dopo, Possaccio dovrà effettuare un'altra trasferta, stavolta nel napoletano, per affrontare la banda Kennedy, squadra che combatte, ma con qualche punto di vantaggio sulle rivali, per evitare la quart'ultima posizione, che significerebbe retrocessione. E ricordiamo che all'andata ai campani vinsero 5-3 a Vervania, decisiva soprattutto la coppia Michele Lamarca e Luigi Coppola. Vedremo. Intanto, nel girone piemontese-toscano-emiliano femminile, si è chiusa l'avventura per le ragazze del DS Aralossi, finite nel loro girone al terzo posto. Tutto si è deciso una settimana fa nel Bolognese. Osteria Grandi ha vinto contro l'Iverbanesi per 6-2 e ha così chiuso al primo posto con 16 punti, 3 più del possaggio. La prima serata del martedì su Vicio Azzurra TV è con Baschettando, che torna anche il mercoledì alle 13 e alle 17.30. Le anticipazioni con Daniele Piovera. Puntata speciale è quella di questa sera di Baschettando. Siamo al Palazzetto dello Sport di Omenia, al Palabagnella, dove è in corso di svolgimento il camp organizzato dalla Paffoni, più di 50 ragazzini che in queste due settimane giocheranno a pallacanestro, ovviamente faranno un tuffo in piscina, nel lago, tante attività, tra l'altro con degli ospiti ucraini, grazie al sostegno di alcuni sponsor, sono una decina i bambini e le bambine che ospiti nel nostro territorio potranno appunto fare il camp della Paffoni Fugor Basket gratuitamente. In questa puntata di Baschettando proporremo tutte le interviste di fine stagione con il saluto della squadra dello staff ai tifosi che è avvenuto nei giorni scorsi al Matisse di Omenia, parleremo della Serie D con le immagini, le interviste relative al successo della squadra allenata da coach Marco Lodetti che battendo Rivalta in gara 3 di finale ha ottenuto la promozione appunto in Serie D. Poi il punto per quanto riguarda i play-off con le finali del campionato di Serie B, quindi non perdetevi l'appuntamento con la penultima puntata di Baschettando. Prima dei saluti le riflessioni di Don Renato Sacco. Sì, bentrovati a tutti. Allora siamo al 14 giugno, vi ricordate il compito delle vacanze che vi ho dato la settimana scorsa? Un Atlante, un mappamondo, per guardare il mondo con occhi diversi, per aprire la finestra, dicevamo. Vale ancora il compito, non vi interrogerò, però vi invito a farlo perché ci aiuta a non chiudereci. Adesso poi arrivano le vacanze e la conferma mi viene anche proprio sfogliando in questo momento il sito del quotidiano La Repubblica di oggi, 14 giugno alle 17. Ci sono tante notizie, cronaca, cronaca nera, elezioni, tennis, eccetera, e al 24esimo posto come notizia sul sito di Repubblica la guerra in Ucraina. Come dire, la guerra non interessa più a nessuno nella sua tragedia, nella sofferenza. Interessa magari per le conseguenze nostre, il gas, gli accordi che dobbiamo fare, le bollette, il caro della benzina, ma del fatto che muoiono delle persone, che vengono uccise, la tragedia, rischiamo di farci l'abitudine. Questa è davvero una cosa indegna a cui non ci vogliamo rassegnare. Ce lo ricorda anche il Papa che oggi lo riprende alla stampa, ha parlato con i direttori delle riviste dei Gesuiti, ha detto va bene, noi siamo colpiti da questa tragedia in Ucraina che è vicina e tragica, ma pensiamo a tanti paesi, Myanmar, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, e stiamo vivendo questa terza guerra mondiale a pezzi. E il Papa ritorna su questa terza guerra mondiale a pezzi e concludeva tra l'altro dicendo bisogna pensare che in un secolo si sono susseguite tre guerre mondiali con tutto il commercio di armi che c'è dietro. Pensiamoci, noi ne riparliamo venerdì e magari anche la settimana prossima perché il 21-23 giugno c'è un importante appuntamento a Vienna. Arrivederci a venerdì, grazie. E noi abbiamo finito, vcioazzurratv.it e le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo che siamo anche su Instagram, cercateci e seguiteci. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata con i nostri programmi. Grazie per aver guardato il video.